Mi aspetto di cambiare un po' la visione che ho del mio lavoro, perché sono un estetista, in genere noi svolgiamo sempre le stesse attività, invece voglio ampliare la visione che ho di questo, quindi concentrarmi su tutto l'aspetto della persona e mi aspetto di mettermi molto alla prova. Alla fine di questa avventura mi vedo sicuramente cambiata, con un bagaglio più ampio da portare nel mio salone e sicuramente cresciuta perché mi metterò a confronto con persone che svolgono la mia stessa attività, che stanno nel mio stesso ambiente e quindi mi metterò in gioco contro di loro e vediamo quello che succede. Il casting è andato benissimo, mi sono emozionata molto, perché parlare di moda mi emoziona, tanti complimenti. Quanto riguarda la settimana è andato bene, ho conosciuto persone molto interessanti, mi sono confrontata, mi sono messa in gioco, mi sono messa alla prova, ciò che volevo era questo, soddisfatta, felice, porto a casa un bagaglio più ampio, a me viene da piangere, non so perché, comunque va bene, porto a casa un bel bagaglio, qualcosa da condividere con le clienti e con la mia famiglia, bello, molto bello da rifare o da proseguire, vediamo. Grazie a tutti.